nessuna casa dovrebbe essere senza vista sul mare ogni casa dovrebbe appartenere al vento e alle onde il mare la casa dovrebbero vivere insieme per sempre come due fanciulli che si siedono uno di fronte all'altro e si confidano i loro segreti siamo a riposto esattamente nella graziosa frazione di carruba e oggi vi presentiamo la splendida tenuta pennisi una maestosa proprietà verdeggiante con un parco di 11.000 metri quadri che dall'ingresso sulla strada provinciale attraverso un caratteristico sentiero privato arriva fino al mare la proprietà ospita un caseggiato principale adibito a b&b con uno splendido appartamento padronale al primo piano che gode di una vista mozzafiato grazie alla luminosa terrazza panoramica grazie a tutti la struttura comprende cinque appartamenti singoli con bagno riservato una comoda zona cucina e un'ampia aria comune antistante lo splendido parco privato caratterizzato da piante e fiori della flora mediterranea molto breggiato e perfetto per gustare un rilassante aperitivo nella quieta del verde all'interno della tenuta proprio accanto al caseggiato principale troviamo anche una seconda proprietà con tre appartamenti a piano terra e due successivi livelli ancora da rifinire proprio accanto al caseggiato principale iniziamo alla per pagare ecco a vero la grande storia a me a aver guardato che ecco a vero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.